Ciao a tutti raga e bentornati su Plerux Channel in un nuovo gameplay di Age of Empires 3 Stiamo giocando la campagna, siamo passati alla seconda campagna E Lucky si lamenta... Cucciolone, ma che c'hai, ti sono? Tranquillo, vizellino, ballo Ballo peloto, non so se riesco a farvelo vedere Lucky Eccolo! Ehi, ciao Lucky Ecco qua, aiuto, eccolo, eccolo Tranquillo, ve lo sono, e dopo ti faccio le coccole Sì, tranquillo, tranquillo, dai, basta adesso, basta adesso Ok Aiuto, aiuto Cade tutto Ma, mentre si è preso un calcino? No, la palletta si è presa Ah, devo ristrarmi a dire No, ok Tutto a posto Tutto a posto Scusate, piccola interruzione Allora, dicevamo Andiamo avanti Perché se no le campagne mi stanno devastando Allora Non è che è stata portata in salvo Ma il ricongiungimento con suo figlio Nathaniel Sala Sala Blede La confederazione europea si scelta Alcuni si unirano agli inglesi Altri si unirano agli inglesi Altri si unirano agli inglesi Mi sta appizzicando tantissimo il naso Oddio Mi sto odiando Non ho neanche un fazzoletto in vicinanza Così Ecco, questo me lo ricordo Ok Siete sei Tre qua E tre qua E tre qua Voi siete sei Tre legna E tre Da qualche altra parte Alla legna, dai Facciamo Altri due abilanti Ah, è vero Mancano Come è possibile Mancano E perché? Ah Ok Allora Quindi voi Andate qua Bene Il cibo Il cibo Dai qua Senza che fai I chilometri Dai Uh Beh perfetto Questo gameplay Durerà Diciotto minuti Allora Non c'è cavalleria Sì posso fare Una cavalleria Ok Ok Per tre minuti Quindi A quindici Perché era Diciotto Diciotto Quindi ok Torna A lavorare La linea Ah Abbiamo anche La capanna Dello zio Tom Questa cos'è Che bisogna Care qua E non so Cosa c'è qui Curioso Curioso Ah Allora Possiamo Producirci Cosa c'è qui Io farò soltanto tanto curioso, quasi quasi, ehi, ah, eccoli, ok, ah, qua stanno gli inglesi e allora, beh, sono due o quattro o sei maschettieri, è eccezionale per adesso. Sì, dai, due. Ah, no, adesso sono un po' di più. Ecco, lì, arrivano. Andiamo un po'. Aspetta. Aspetta. Ok, ok Quindi utilizzano un po' lo ston Ma Ma dai No Adesso no Devo per forza Mandare però degli uomini Di là A guardia E questi li manderò lì Questi però sono diversi Questi sono I'm crazy E su diversi Fatti I'm crazy Qui sta portando gli occidentali Qui sta portando gli occidentali Qui sta portando gli occidentali E' sto un attimo Inguagliato Leggermente Inguagliato Ok Il ridotto c'è Regge E' per forza Cavolo Allora Allora Meglio sto messo bene Quindi voi Andate lì qua Al volo E C'ho bisogno Vabbè C'ho estremo bisogno Di cibo E di truppe Eh no Non va bene Sta cosa Non va affatto Bene E va Qualcuno Te pare Dai Palle Dai Ammazzatemi Questi Andatemi a sopportare Guardate là Per favore Eh no Non ce la faccio Ok Correte di qua Ora Non ce la faccio C'è C'è E As As Nas no non ce la faccio niente raga abbiamo perso bello vabbè dai rifacciamolo riavviamo lo scenario ok allora allora subito voi subito voi subito basta poi ho bisogno di un sacco di risorse nel frattempo voi tu qua tu qua e basta allora miniere miniere a cielo aperto non ne abbiamo però questo qua del legno può fare sempre comodo e ok vai a raccogliere un cibo no cioè ne abbiamo di miniere però vabbè abbiamo la piantagione quindi non ha senso non ha molto senso devo avanzare anche di time tutto ciò è un cibo non è un cibo non è un cibo non è un cibo Ok. Allora Beh, tosta È tosta Ok 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 Tanto abbiamo troppo di questi Questa per i cavalli E qua Bene Allora dobbiamo fare un sacco di cavalli Ma veramente un sacco Un sacco di cavalleria Cosicché possiamo farli scorrazzare Da un punto all'altro della mappa E darci manforte intanto loro Qui lasciamo tutta la fanteria E con la cavalleria andiamo a destra e a sinistra E' l'unico modo E' l'unico modo L'unico unico modo Allora Però adesso questi li lascio qua Tanto loro riescono a difendere Ok bene Bene Voi andate di qua Altri Vaffanculo però sono pochi Verda Andate a raccogliere il cibo No Dove se avete qua Correte Correte Intanto Faccio Sono lenti E' un po' Grazie. Oh, oh, non fate macelli, eh. Non fate... Ma dico io, no? Mannaggia al cazzo, mannaggia. Ok. Ok. Mettiamo un attimo da manforte a questi perché qua ora stanno risbarcati. Allora, visto che ne ho abbastanza qua di legna, questi li mando qua. Oh, ok, 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 non ci sono, non vuoi tornare qui di qua. Perché qua è un bel problema. Oh, caproia. Nooo. Ma dai, cavolo! Dove lo faccio il porto? Dove qua è l'unico. Vabbè, intanto stiamo reggendo relativamente di più. Oh, non mi fate scherzi, eh. Mannaggia a voi, mannaggia. Eh, però... Non gliela faccio. Ok. Non so come abbiano fatto, non si sono salvati. Oh! Che culo! Che culo era ora. Allora... Sì, però, questi stanno arrivando, ma io non c'ho truppe. Non ho truppe, non ho truppe, non ho unità. Costruitemi i casi al ruolo, per favore. Merda! Oh, ce devo riuscire. Porca miseria, eh. Che cazzo. È assurdo, raga. Non ce la so affa. Non ho ragione, miseria. Vabbè, io... Eccomi. No, mi dispiace, ma non salto... Cioè, non vado avanti con il gameplay. Continuo, fino a che... Non finisco sto cazzo di scenario. Riavviamolo. Oh, porca puttana. È assurdo, eh. È assurdo. E non ho aumentato la difficoltà. È sempre quella, sempre media. Boh. È il cibo quello che manca. Cioè, veramente, sto sempre in crisi nera di cibo, io. Sempre in crisi nera di cibo, in questi ultimi due scenari. Vediamo un po'. E mi devo fare anche un porto, perché dopo me crepano, quindi mi devo fare anche un porto. E sai che ti dico, il porto me lo faccio subito. Il porto me lo faccio subito. Così dopo non devo stare a sprecare risorse. E allora... Cerchiamo... Cerchiamo... Secondo il video del cibo... Ok, sapete che vi dico? Che tanto... Le milizie... Ok, facciamo così. Ok, facciamo così. Ok. Cambiamo strategia, vediamo un po'. Invece di fare 6, 6 e 6, andiamo a capofitto con i tizi. Vediamo come va. Che so. Allora no, i cavalli qua mi servono. Questi qua. Tu... Vai qua il denaro. Tu pure il denaro. Ok. Bene. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ah, ci vuole il legno per fare i cavalli. Porca paletta. Porca paletta. Porca paletta. Ok. Che ci vuole il legno non lo sapremo. Ok, quindi aumentiamo. Facciamo qualche cavallino subito subito. Già 3 cavalli vanno più che bene. Perché tanto alla fine mi arriva solo fanteria per ora. Per ora mi è arrivata solo fanteria e quindi più cavalli faccio meglio è. Fondamentalmente. Ecco qua, manca un minuto. Manca un minuto. Altri cavalli. Speriamo che stavolta vada bene. 50 e 65. 50 e 65. Dai. Dai, ci arrivo perché adesso partono. Ok. 13 secondi partono. Partito. Primo. Ok. 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 Ok, quanti siete? Siete 8 Bene 4 E 4 Voi qua Noi facciamo altri due abitanti che mi servono E un altro cavallo Speriamo che reggano Ok, per adesso si è un oretto Bene Voi rimanete qua Voi tornate di qua Tu torna di qua Perché stanno tornando Ok No, devi tornare il cibo Ma dai Bene Perfetto Sono difeso Ma perché questo sta qua? Ma che cazzo Ok Non sono riusciti a sbarcare Ottimo Ok Non voglio cantare vittoria Però adesso sta andando molto meglio Ok Anzi una via raccoglie Facciamo Un'idea di celle Niente Arriva sempre troppo d'arti Sul segno Ok Devo andare a supportare Devo fare altri cavalli Devo andare a Ok L'ho già fatto Da di qua Ok No So Oh, che cazzo Ok, mancano dieci minuti Sta andando bene Oh, che cazzo ci sei riuscito Taccidula Bene Oltre cavalli Io Non so Penso di dover passare l'età successiva Ma non c'ho di due risorse per farlo Dai, ce la facciamo a completarli Bene Ok Ci stiamo difendendo bene Benone direi Cazzo Qua no Qua è un bel problema Correte 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 Come le cose che corrono Vaffanculo Non c'è la faccio Ok Ok E dai Mamma mia Che cazzo Sono rimasti pure pochi Stronzissimi qua Stronzissimi qua Ok bene Bene Non li lascio qua perchè così lui può bombardare Capito? Ok mancano 6 minuti E sta andando relativamente bene Il porto mi serve quindi Per forza Allora Bisogno Che migliorino questo Ok Mamma mia che macello Eh dai Che lo possiamo fare? Ce la possiamo fare Possiamo farcela Ok Bene Di qua resta difeso Fortunatamente Allora Facciamo Un po' di qua No Questi sono troppo pochi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Trovo le barchette, non si sa mai. Passiamo l'età successiva, ce la facciamo? No, non ce la facciamo. E vabbè ormai manca un minuto quindi non fa niente. Facciamo un'altra barchetta. Questo cannone mi dispiace però non fa niente. Questo qua è l'assalto finale. E' l'assalto finale questo. No, non serve. Adesso il contrario. Mi manca. Oh, sta avvenendo qualcuno. Solo questi? Solo questi? Sul serio? Ehi. Ehi. Wow. Mamma mia, che roba raga. Che roba. Che macello. L'ho rifatta quante volte? 3? 4? Wow. Dura, dura. E' stata dura. Vabbè. Dai. Ci vediamo al prossimo gameplay. Lasciate un like, commentate, condividete e iscrivetevi se non l'avete fatto. Ciao ciao, alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.